E andiamo verso chiude 50 metri per un po' E andiamo, ultimi 50 metri con il backtrack, è una precisione Simone che chiude con il tempo di 32, ma senza regolare anche in questo caso. E andiamo verso questi ultimi 50 metri, anche qua sono un po' dei pericolosi, chiude in prima posizione con 32, ma senza regolare anche per questa notte. E andiamo, ultimi 50 metri, velocissimi, chiude il numero 54, Edoardo col tempo di 3. Ma senza regolare per questa quarta batteria, ragazzi. E andiamo, ultimi 50 metri, con l'oretto si chiude col tempo di 31 e 34. Ma senza regolare per questa quarta batteria. E andiamo, ultimi 50 metri, 2 a 3, sicurissimi. E andiamo, ultimi 50 metri, 2 a 3. ed è la sala che chiude con il tempo di 31 e 52. Senza batteria abbiamo Angelo. Secondo fischio, questa volta. ed è un po' di fischio, e un po' di fischio, è un po' di fischio, è un po' di fischio. Sceglie oggi questi ultimi 50 metri. Buonagallo si chiude in primo passaggio con il celebra tempo di 3 per 1 e 80.